Oggi i bambini possono essere fortunati perché possono vedere i propri personaggi dal vivo andare oppure quando si potrà andare di nuovo a Euro Disney e vedere Minnie, Topolino, Pluto, Paperino i personaggi, vederli dal vivo, vicino. Quando ero bambino un solo personaggio c'era o portiere del palazzo mio. A Natale facevo Babbo Natale, al mio compleanno braccio di Fer e al compleanno di mia sorella Minnie. Però io lo guardai e dissi papà ma il portiere del palazzo è Minnie. Da che te ne sei accorto? Papà non è tanto dalla barba, ma dal fatto che quando è finita la festa si è portata via due buste alla spazzatura. E sta cosa impressionata?